Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Grande lutto in queste ore per il mondo del cinema, lui era un attore conosciuto e amato da tutti. L'attore comico ha recitato in più di 200 film, serie tv e programmi radiofonici nel corso della sua carriera di otto decenni. Dopo il suo matrimonio nel 1982 con Angela Scullar, morta suicida nel 2011, l'attore decise di dare una svolta alla sua carriera, abbandonando i lavori comici o di commedia. Ha avuto ruoli in film come L'impero del sole 1987, di Steven Spielberg e Lara Croft, Tomb Raider. Nella versione originale della saga di Harry Potter ha dato la sua voce al cappello parlante, l'oggetto magico senziente che si occupava di smistare gli alunni di Hogwarts nelle rispettive casate. La moglie Zara Cara ha detto al quotidiano britannico Esan, ho perso un marito meraviglioso e il pubblico ha perso un grande showman. Era semplicemente un tesoro nazionale. La gente lo amava. Era assalito ovunque andasse. Il suo agente, Jonathan Lloyd, ha confermato che la star è morta pacificamente nel sonno lunedì 7 novembre. Stando a quanto riportato dalla BBC, l'attore aveva subito due ictus, a sei mesi di distanza all'età di 90 anni. Si è spento a 98 anni dopo una lunga malattia. A dare l'annuncio la gente e la moglie dello showman. A lasciarci l'attore Leslie Phillips, era la voce del cappello parlante di Hogwarts, in Harry Potter. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.